Musica Cordiale incontro inquirinale tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella La Chiesa in Italia è una realtà vitale, ha detto il Santo Padre Conclusa la lunga campagna elettorale, domani si vota in 19 comuni in Liguria, nel Tiguglio Si rinnovano i consigli di Chiavari e Cicagna, diretta di Telepace dalle 23 Cosa chiedono i cittadini al futuro sindaco di Chiavari? Inchiesta di Telepace, al primo posto pulizia delle strade, raccolta rifiuti, lavoro, sicurezza e proposte per i giovani Pronta la nuova cappella nel quartiere di Caperana sarà intitolata a Santa Maria Domani pomeriggio il Vescovo consacrerà l'altare La mistica spezzina Italamela è stata proclamata beata nella sua città La messa, concelebrata da più di cento cardinali, vescovi e sacerdoti, presente una folta assemblea in Piazza Europa La fiaba La guerra dei calzini di Alessandra Fella di Bolzano ha vinto la cinquantesima edizione del premio Andersen di Sestre Levante Il festival continua fino a domani con concerti e spettacoli Il circolo Acli Fanin di Chiavari per un artigianato ancora vivo e attivo Con la sfilata curata dai soci si è conclusa in Via Vinelli la mostra con i lavori dei corsi annuali Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione Un'alleanza per il lavoro specialmente per i giovani Politiche per la famiglia e ancora la sfida del fenomeno migratorio e del terrorismo Sono i temi cruciali toccati dal Papa nel suo discorso al Quirinale Temi espressi anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Troviamo nella Chiesa ha detto un valido sostegno Momento centrale della visita del Papa al Capo dello Stato Italiano È stato proprio quello dei rispettivi discorsi tenuti nel Salone dei Carrozzieri Francesco è il quinto pontefice che dalla nascita della Repubblica Italiana fa visita al Quirinale Con quella odierna il pontefice intende ricambiare la visita in Vaticano del Presidente Mattarella Avvenuta il 18 aprile del 2015 Sulle parole del Papa e del Presidente della Repubblica abbiamo il servizio del Centro Televisivo Vaticano Per rispondere a problemi e sfide come il terrorismo internazionale, le migrazioni e la disoccupazione giovanile L'Italia e l'Europa devono puntare sulla cooperazione internazionale Sull'alleanza di sinergie e iniziative e rafforzare i legami tra la gente e le istituzioni L'ha sottolineato Papa Francesco nella sua visita al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nel Palazzo del Quirinale Dopo gli onori militari e l'esecuzione degli inni, il Papa e il Presidente italiano ricevuto in Vaticano il 18 aprile 2015 Poco dopo la sua elezione hanno avuto un colloquio privato nello studio presidenziale Francesco ha poi donato al Presidente Mattarella un'icona raffigurante gli Apostoli Pietro e Paolo ricevendo un fermaglio di piviale in argento Dopo una breve sosta di preghiera nella cappella dell'Annunziata il Papa e il Presidente hanno tenuto i loro discorsi nel Salone dei Corazzieri Mattarella ha ringraziato il Papa e la Chiesa per il suo utile sostegno nella reciproca autonomia per la comune responsabilità per l'essere umano Il Pontefice ha ricordato che le sfide del terrorismo, delle migrazioni e della disoccupazione giovanile si possono trasformare in occasioni di crescita con l'impegno dell'Italia a favore della pace, l'accoglienza dei profui con le navi italiane e lo sforzo dei volontari e delle parrocchie Per dare a tutti, soprattutto ai giovani, opportunità di un lavoro stabile e dignitoso ha spiegato il Papa, è necessaria un'alleanza di iniziative perché le risorse non siano disperse in investimenti prevalentemente speculativi espressione di una fuga davanti alle sfide del nostro tempo Il lavoro stabile, insieme a una politica fattivamente impegnata in favore della famiglia primo e principale luogo in cui si forma persona in relazione sono le condizioni dell'autentico sviluppo sostenibile e di una crescita armoniosa della società Sono due pilastri che danno sostegno alla Casa Comune e che la irrobustiziano per affrontare il futuro con spirito non rassegnato e timoroso ma creativo e fiducioso Prima di lasciare il Quirinale, il Papa, insieme al Presidente Italiano ha salutato nei giardini del Quirinale 200 bambini venuti dalle zone terremotate del centro Italia Andate avanti con coraggio, sempre su, ha detto Francesco ai bambini Ma come dicono gli alpini, nell'arte di salire, il successo non sta nel non cadere ma nel non rimanere caduto Più di mille comuni e oltre 9 milioni di cittadini saranno coinvolti nella prossima tornata elettorale per i sindaci e il rinnovo dei consigli comunali Due i comuni del Tiguglio, nei quali i cittadini residenti sono chiamati al voto Cicagna e Chiavari Le urne resteranno aperte per un solo giorno dalle 7 alle 23 di domani Riepiloghiamo nel servizio che segue i comuni al voto in Liguria nella tornata elettorale di domani In provincia di Genova sono chiamati alle urne i cittadini di 7 comuni Quello più popoloso è proprio il capoluogo Genova con 586.180 abitanti Di cui 493.658 aventi diritto al voto 9 i candidati a sindaco che si propongono per la corsa a Palazzo Tursi Il primo cittadino di Genova sarà anche il sindaco della città metropolitana Si rinnova il consiglio comunale anche a Darenzano, Ceranesi, Pieve Ligure, Rovegno e naturalmente Chiavari e Cicagna In provincia di Imperia i comuni al voto sono 4, Bagliardo, Pornassio, Taggia e Triora 6 comuni in provincia di Savona che rinnovano il consiglio Altare, Boissano, Borghetto, Santo Spirito, Cairo, Montenotte, Calizzano, Giuswalla In provincia di La Spezia si va alle urne a Spezia e a Luni Si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23 Gli unici comuni in cui si potrà andare ad un successivo turno di valottaggio sono Genova, La Spezia e Chiavari poiché con un numero di abitanti superiore ai 15.000 Gli elettori dovranno recarsi alle urne muniti di tessera elettorale e di documento di identità Verrà loro consegnata una scheda blu sulla quale troveranno prestampati i nomi dei candidati a sindaco e le relative liste di appoggio Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, come Cicagna, si potrà tracciare una croce sul nome o la lista del sindaco prescelto ed esprimere un eventuale voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere collegato al sindaco Nei comuni con più di 15.000 abitanti, come nel caso di Chiavari, il voto si potrà esprimere in tre modi diversi Tracciando un segno solo sul simbolo di una lista assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al sindaco da quest'ultimo appoggiato ed eventualmente indicando anche la doppia preferenza di genere che consente di esprimere due preferenze purché riguardanti i candidati consiglieri di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista Tracciando un segno sul simbolo di una lista, anche in questo caso indicando o meno la preferenza e contestualmente un segno sul nome del candidato sindaco non collegato alla lista votata così facendo si ottiene il cosiddetto voto disgiunto Tracciando un segno solo sul nome del sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste da quest'ultimo collegate E cosa chiedono i cittadini chiavaresi al futuro sindaco? Abbiamo provato a chiederlo raccogliendo le varie testimonianze nella inchiesta che andiamo a vedere insieme Cosa chiederebbero i cittadini al futuro sindaco di Chiavari? La domanda è stata posta ad un campione di chiavaresi e non solo anche a coloro che per lavoro frequentano la città Al primo posto, in ordine alle risposte ricevute, emerge la richiesta di maggior pulizia Un po' di educazione da parte di certi padroni di cane Gestire un po' meglio la pulizia delle strade Le strade pulite, senza tanti cani, ecco, questo io dico I pavimenti dei sottoportici che ancora non si capisce chi debba pulirli e dove i negozi sono chiusi c'è necessità di pulizia Per alcuni la richiesta principale riguarda grandi opere evocando anche soluzioni differenti per la raccolta dei rifiuti Un termo valorizzatore, così si risolve il problema della spazzatura e ci guadagniamo ancora E magari migliorare anche la raccolta della spazzatura, che forse non funziona molto bene E prendere una decisione sul depuratore Altro tema caldo per il futuro sindaco di Chiaveri è quello del lavoro già esistente o da valorizzare Creare quelle strutture, quelle situazioni per cui c'è maggiore introito, indotto lavorativo Qua saliva i turisti non ce ne possono andare a dormire, alberghi non ce ne più Avrebbe bisogno di una revisione un po' totale, soprattutto non tanto del centro quanto delle periferie In ultimo, ma non per importanza, vengono proposte turistiche per la città, per i giovani e anche per la maggior sicurezza La sicurezza pubblica che è un po' mancante Qualche luogo per sport, non so qualcosa Secondo me Chiaveri avrebbe bisogno di qualche attività più nuova per i giovani Qualcosa da portare un po' di turismo, un po' di innovazione Qualcosa per, vabbè, anche qualcosa di nuovo in città Dunque lo ricordiamo, lo scrutinio dei voti inizierà domani alle 23 Proseguirà sino alla proclamazione degli eletti Per quanto riguarda Cicania, in notata si saprà il nome del futuro sindaco Per quanto riguarda Chiaveri, invece, nel caso nessuno dei candidati a sindaco Tenga al primo turno la maggioranza più uno dei voti Si tornerà alle urne domenica 25 giugno per il ballottaggio tra i due candidati Che al primo turno abbiano ottenuto la maggioranza dei voti E domani Telepace seguirà in diretta l'andamento dello spoglio elettorale per Chiaveri e Cicania A partire dalle 23, dalla chiusura dei seggi, la cronaca delle attività di spoglio Con i primi dati relativi all'affluenza e l'elezione dei due sindaci dei due comuni Lunedì mattina, poi, a partire dalle 7, il buongiorno di Tele Radio Pace Sarà dedicato ai risultati dello spoglio elettorale della notte Con ospiti e commenti E poi, sempre lunedì 12 giugno, in prima serata, a partire dalle 21.10 Ci sarà lo speciale direttamente sulle elezioni a Chiaveri e Cicania La cronaca ora Un incidente dalla dinamica rocambolesca ha avuto fortunatamente un esito non grave Questa mattina a Chiaveri Una donna che viaggiava verso Crasco poco prima delle 11 Si è ribaltata con la sua auto all'altezza di Caperana, in via Parma La causa dell'incidente è ancora da chiarire Ma probabilmente all'origine dello sbandamento potrebbe esserci stato un malore L'auto non ha urtato altri veicoli La donna è stata estratta dall'auto dal personale del servizio medico 118 E dai volontari della Croce Rossa di Cogorno Che hanno lavorato insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Chiaveri E alla polizia municipale Vediamo proprio le foto dei momenti dell'intervento La donna viaggiava da sola Le sue condizioni hanno fatto optare per il trasferimento al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo Domani nella solennità della Santissima Trinità Due sacerdoti novelli, Don Salvatore Bizzimana e Don Stefano Bruzzone Celebreranno la prima messa nelle comunità parrocchiali Dove hanno prestato servizio durante l'ultimo periodo di seminario e comediaconi Don Stefano Bruzzone celebrerà l'Eucarestia alle 10.30 nella parrocchia di San Rufino a Levi Don Salvatore Bizzimana celebrerà invece la Santa Messa alle 11.30 nella Basilica di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure In entrambi le comunità seguirà poi un momento di festa E nel giorno della Santissima Trinità la comunità parrocchiale di Caperana Fesseggerà la fine dei lavori e la consacrazione della chiesa della nuova cappella Dedicata al cuore, realizzata proprio nel cuore del popoloso quartiere Chiamarese Vediamo Finalmente dopo diversi anni di fatica e di impegno Siamo arrivati al dunque di poter iniziare questa nuova avventura con la nuova cappella di Caperana Domani viene Monsignor Vescovo appunto a consacrare il nuovo altare Per poter poi da lunedì, da domenica sera ma poi da lunedì iniziare a celebrare la Santa Messa in questa nuova realtà E' molto accogliente anche i colori, insomma è studiato tutto nei minimi particolari Sì, l'architetto Spinetto che ha progettato appunto la chiesa ci ha messo il cuore in questa cosa qui Quindi ci ha studiato parecchio, mi sembra che il risultato sia veramente notevole Insomma, è veramente l'accoglienza come struttura, mi sembra che sia proprio il termine appropriato Ecco, è una chiesa calda e diversa dal solito Un progetto che nasce da distante, da diversi e tantissimi anni Qua è una zona dove viene celebrata la Santa Messa Beh, la Santa Messa viene celebrata da 30 anni Qui c'è una cappella dove appunto fino a ieri abbiamo celebrato Messa Che rimane al piano terra di un condominio E allora è successo che ormai sono passati 4 anni Due parrocchiane hanno lanciato l'idea di ristrutturare una struttura a lato Del condominio delle case popolari per poter fare lì la nuova cappella Ma senza demolire la struttura esistente Facendo una ristrutturazione che però dal punto di vista ingegneristico Si è risultata impossibile a farsi Per cui si è optato per proprio una demolizione del vecchio edificio E una ricostruzione da zero della nuova cappella La festa della Santissima Trinità sarà celebrata con particolare solennità a Lavagna Nell'omonimo oratorio Questa sera alle 21 si rinnova la processione con l'Arca della Trinità Opera del Maragliano con i crocifissi della confraternita E il corpo bandistico a città di Lavagna Al rientro in oratorio l'adorazione e la benedizione eucaristica Domenica poi alle 8 la Santa Messa Alle 10.30 la Messa Solenne e Cantata Al termine sarà presentato il restauro del dipinto raffigurante Santa Rosalia Interverranno Paola Traversone, funzionario della soprintendenza Carla Campomenosi e Margherita Levoni, le due restauratrici E questa mattina a Spezia si è svolta la solenne concelebrazione eucaristica Per la beatificazione della mistica Itala Mela Presente in piazza l'infermiera testimone del miracolo che le è stato attribuito Vediamo il servizio Itala Mela è stata proclamata beata questa mattina alla Spezia La città dove visse dal 1904 quando nacque da Pasquino e Luigia Bianchini Entrambi non credenti e dove morì nel 1957 La lettera apostolica con la quale il Papa ha iscritto Maria della Trinità, questo nome che scelse da oblata benedettina Nell'elenco dei Beati È stata letta dal Cardinale Angelo Amato Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi Prima dell'inizio della solenne celebrazione eucaristica In piazza Europa, cuore della città La messa è stata concelebrata dal Cardinale Amato e dal Cardinale Angelo Bagnasco Arcivescovo di Genova E da una ventina fra vescovi e abati benedettini Oltre che da 83 sacerdoti Al momento della proclamazione della nuova beata Una sua grande immagine è stata scoperta in piazza E mentre i numerosi fedeli applaudivano È stato eseguito il nuovo inno a Itala Mela Composto da un abate benedettino Che ha vinto il concorso di idee Indetto in questa occasione dalla diocesi della Spezia Sarzana Brugnato Nell'omelia il Cardinale Amato Ha ripercorso la vita di Itala Mela Ed il fondamentale passaggio dal tenace ateismo adolescenziale Conseguente alla precoce morte del fratellino Enrico Ad appena nove anni All'abbandono incondizionato e perseverante a Dio Concretizzato nella confessione e nella comunione Il giorno dell'Immacolata del 1922 Il mistero della inabitazione trinitaria È stato al centro della sua riflessione mistica Condotta attraverso vari scritti Sempre vagliati punto per punto Da due direttori spirituali Al momento dell'offertorio i doni all'altare sono stati portati da madre Teresa Durante Madre superiore del monastero delle suore benedettine del Castellazzo Fortemente voluto da Itala Mela E da una infermiera che fu testimone del miracolo attribuito alla nuova beata Ovvero della guarigione di una neonata Venuta alla luce con parametri definiti dai medici incompatibili con la vita E per la quale venne invocata l'intercessione di Itala Mela La memoria liturgica della nuova beata è stata fissata il 28 di aprile Il giorno precedente alla sua morte La comunità parrocchiale di Santo Maso del Curlo a lei vi festeggia domani la Madonna del Pianto Alle 17 sarà celebrata la Santa Messa dal parroco Don Franco Brioni seguirà la processione con l'arca della Madonna e la benedizione eucaristica Al termine sarà offerto un piccolo rinfresco sul piazzale antistante la chiesa E al santuario di Sant'Antonio a Chiavari prosegue la preparazione in visita della festa del Santo Domani le sante messe alle 9, 11 e alle 18 Quest'ultima animata dalle corali partecipanti alla rassegna delle corali liguri Alle 20 e 45 concerto dal titolo Coralità antica e moderna dal carattere religioso Lunedì vigilia della festa alle 18 la Santa Messa e la benedizione con la distribuzione del pane di Sant'Antonio Martedì giorno della festa alle sante messe alle 9, 11 quest'ultima presieduta dal Vescovo di Chiavari alle 18 e alle 21 Alle 17 ci sarà l'affidamento dei bambini al Santo, benedizione dei gigli e la processione per le vie della città In serata alle 21 e 30 concerto del duo Mission Nadia Solari all'organo e Claudio Monteverde alla tromba E la guerra dei calzini e le titola della fiaba scritta da Alessandra Fella di Bolzano Che si è giudicata la cinquantesima edizione del premio letterario Hans Christian Andersen Baia delle favole di Sestri Levante Oltre mille le fiabe suddivise in varie categorie partecipanti e valutate dalla giuria presieduta da David Bizio Fondatore del premio Nella categoria ragazzi ha vinto la fiaba Il complesso di Dio scritta da Silvia Misia di Giovanni di Milano Per la sezione bambini primo premio alla scuola primaria Sorelle Sorasio di Borgo Fornari Con la fiaba avventura tra i libri Per la sezione materna con la matita spuntata Ha vinto la scuola materna di Mignanego di Genova Menzione speciale per la sezione dei Verdi della scuola materna di Ribasso a Chiavari Con la fiaba dal titolo Pierino e Gustavo Il premio speciale Baia delle favole ha visto al primo posto Michela Guidi di Rimini Che ha vinto con Va bla bla una favola ispirata al figlio L'abbiamo intervistata Quando mi è arrivata la telefonata guarda per almeno una giornata non ho capito più niente Non me lo sarei mai aspettata sinceramente La tua fiaba parla dell'origine del linguaggio ma è un tema attualissimo nel nostro tempo Da dove è nata l'ispirazione? Allora è nata grazie a mio figlio che quando frequentava il secondo anno di materna Mi ha scritto un biglietto con scritto ti voglio obne Che poi è la frase citata nella favola E a me è sembrata la frase più meravigliosa del mondo Non si può dire più meravigliosa ma è stato proprio così E guardando quelle letterine un po' sbilenche ho provato a pensare Il senso delle parole proprio viene dal nostro cuore Indipendentemente da come sono scritte, da chi le abbia scritte Però nasce tutto dall'anima insomma Soprattutto se a scrivere è un bambino Quindi sei più mamma che scrittrice? Al momento sicuramente sì, sì 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 Sono una mamma innamorata del mio bimbo Solo lui, ammetto sì Però la scrittura vorrei avere più tempo da dedicare Ma al momento sono una mamma lavoratrice a tempo pieno Faccio più fatica Però leggo sempre tantissimo Anche letteratura per l'infanzia E penso che questo mi abbia aiutata Appunto a poi a immedesimarmi in quella parte bambina Che ho cercato di non perdere anche se ho 43 anni La premiazione porta al culmine il Festival Anderson Ma c'è ancora la giornata di domenica Quali sorprese riserva? Allora domenica in Baia ci sono tre appuntamenti molto importanti C'è alle 19 un incontro spettacolo musicale Con Giuseppe Culicchia, uno scrittore molto bravo e divertente Poi alle 21.30 c'è un grande concerto molto interessante di Mario Venuti Che siamo molto felici di ospitare al Festival Nella Baia del Silenzio in versione acustica E poi un gran finale di festa con lo swing Con un gruppo genovese e i ballerini di swing Per finire alla grande questo ventesimo festival Ballando nella Baia del Silenzio Tra l'altro pare che domani sarà la serata più calda Delle ultime settimane Quindi sarà sicuramente molto divertente A Santa Margherita Ligure sono stati inaugurati i primi sette defibrillatori pubblici La cerimonia è venuta questa mattina in Piazza Mazzini Alla presenza del sindaco Paolo Donadoni Il momento rientra nel progetto Santa Margherita Ligure Città cardioprotetta Che consiste nell'installazione di una rete di defibrillatori sul territorio cittadino Con la collaborazione e il contributo di diverse realtà cittadine e nonne Oltre alla piazza Teatro dell'Inaugurazione Gli altri sei apparecchi si trovano nelle piazze Vittorio Veneto, San Siro, Martiri della Libertà e Nobili E poi in via Garibaldi e alla Calata Porto Altri due apparecchi sono stati già installati nel palazzetto dello Sport di via Liuzzi E nella palestra di via Domizio Costa Il progetto Santa Margherita Ligure Città cardioprotetta Si pone l'obiettivo di aumentare le probabilità di intervento tempestivo Su casi di arresto cardiaco E aumentare così di conseguenza la percentuale di successo nel salvataggio della vita delle persone colpite da questo evento E' iniziata a Carasco la distribuzione dei sacchetti codificati per la raccolta della frazione di rifiuto secco e non riciclabile La consegna si svolge nella biblioteca comunale in via Chiesa 6 Sino al 29 luglio esclusivamente nei giorni Lunedì dalle 7.30 alle 11.30 Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 Il sabato dalle 8 alle 12 Per il ritiro è necessaria l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento della Tari Eccezionalmente si poterà delegare un familiare al ritiro Con l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del comune di Carasco Allegando una fotocopia del documento di identità E come ogni anno a conclusione dei corsi di artigianato Il circolo a Clifanin di Chiavari ha organizzato una mostra degli elaborati Che si è conclusa con la sfilata degli abiti e la lotteria di beneficenza Finalizzata a un'adozione a distanza in Africa per tramite dei frati francescani Vediamo come è andata Tutti gli anni facciamo questa manifestazione che chiude l'anno dei corsi artigianali Quindi facciamo questa festa Facciamo le donne Dopo aver fatto la mostra preparano la sfilata Poi c'è una lotteria di beneficenza Anche perché una parte va per un'adozione di un bimbo in Africa E poi c'è un po' di stare insieme Un brindisi tutti assieme Ecco, questo circolo è un punto di riferimento per tante persone Che durante l'anno portano avanti l'attività Dal cucito al dipinto e quant'altro Sì, il circolo è sempre aperto Dalla mattina alla sera C'è per i nostri soci C'è la possibilità di ritrovarsi Di giocare assieme Di stare insieme Di passare più o meno la giornata Abbiamo poi tutti questi corsi artigianali Fatti dalle nostre Tutte volontari E quindi c'è tutte queste attività Il circolo Fanin quanti soci può contare? Diciamo che circa Ci abbiamo oltre 300 soci Più poi ci sono attività di palestra Quindi diciamo che c'è una buona attività Una buona partecipazione Tra i corsi e i fiori all'occhiello Ci sono anche quello di inglese e quello di computer Quindi anche le nuove tecnologie Ci abbiamo quello di computer Perché sinceramente E' efficiente Tenuto dal signor Ficicchia Che indubbiamente E' molto Abile Diciamo Nella sua cosa Lo stesso vale per la lingua inglese E c'è la signora Che segue Quindi insomma diciamo Che cerchiamo Anzi se possibile Cercheremo Di fare qualcosa di nuovo Insomma Con tutte e sempre Le buone intenzioni Di partecipare E di far Soprattutto di far partecipare Cristianamente mancata All'affetto Dei suoi cari Paolina Ferrari Vedova Dall'Orso Mamma di Antonio Già presidente Dell'associazione Carol Voitila Onlus E di Giorgio Dall'Orso Paolina che aveva compiuto Cento anni Cinque mesi fa Se ne è andata accompagnata Con affetto Dai familiari Oltre ai due figli Le nuore Rosangela e Luisa L'adorata nipote Erika Con Guido Lascia la sorella Mero Per i cognati E i nipoti Il rosario Sarà recitato Nelle camere mortuare Di Lavagna Domani Domenica Alle 19 I funerali invece Saranno celebrati Lunedì Alle 10.30 Nella parrocchia Di Maria Madre Della Chiesa A Lavagna Per desiderio Dei familiari Le offerte Saranno devolute Alla società operaia Di mutuo soccorso Tommaso Sanguinetti Di Lavagna Ai figli Antonio e Giorgio E ai familiari Tutti Va la vicinanza Il ricordo Nella preghiera Da parte di tutto Lo staff Di Telepace La Croce Verde Chiavarese Organizza un corso Di primo soccorso Gratuito E rivolto Alla cittadinanza Le lezioni Si svolgeranno A cadenza settimanale All'interno Della sala Autello russo Del comune di Ne Ogni martedì E giovedì Dalle 21 Alle 22 E 30 Dalle 13 Giugno Al 4 luglio Sarà analizzato Il sistema Regionale Di soccorso Esilupate Diverse tipologie Di emergenze Per ulteriori informazioni E per l'iscrizione Ci si può rivolgere Al numero di telefono 0185 33 73 22 E adesso Nella nostra scheda Gli appuntamenti In agenda Per la giornata Di domani Vediamo Appuntamenti Appuntamenti in agenda Per domenica 11 giugno Seconda giornata Del mercatino Dell'antiquariato A Chiavari Dalle 8 Alle 20 In via Martiri Della Liberazione Ci saranno Circa 200 Espositori Provenienti Da ogni parte Del nord Del centro Italia Escursione Alla cascata Della Ravezza Nel comune Di Rezzoaglio A cura Dell'osservatorio Raffaelli Di Casarza Ligure Ritrovo Per la partenza Alle 8 45 Al lago Delle Lame In comune Di Rezzoaglio Dalle 10 Alle 20 A Zoagli C'è Zoagli In fiore In piazza 27 dicembre In mostra Oggetti Per la floricoltura E artigianato Artistico E a tema Floreale Un pomeriggio Alla scoperta Della cipolla Rossa Di Zerli Dalle 15 Mercatino Fritelle E Musica Sotto le Fronde A San Rocco Di Zerli All'oratorio Dei Bianchi Di Rapallo Con inizio Alle 17.30 Terzo concerto Della rassegna Per tenore Organo Con Marcello Cassinelli E Guido Ferrari Organizza L'associazione I musicanti Del castello Con il contributo E il patrocinio Del comune Aperitivo Con delitto Dal titolo Così bella Da morire Organizzato Dall'associazione Culturale Fons Gemina Appuntamento Alle 18 All'hotel Giulio Cesare Di Rapallo Infine A partire Dalle 20.30 Al teatro Cantero Di Chiaveri Va in scena Lo spettacolo Voci in scena Amarsi A cura Della scuola Di tecniche Vocali Applicate Alle arti Sceniche Canterò In chiusura Un appuntamento Sportivo Domani A Casazza Ligura In programma La giornata Azzurra Di ciclismo Alle 11 Avrà inizio Il decimo Memorial Livio Garibotto Campionato Regionale Categoria Esordienti Le strade Interessate Da questa gara Dove vi sarà Una chiusura Alla circolazione Per il tempo Necessario Al passaggio Degli atleti Saranno Via Gramsci Via Tangoni La provinciale 523 Località Bargonasco Fino a Piazza Capelli Un percorso Di oltre 4 km Da ripetere 8 volte L'arrivo È previsto Per le 12 Nel pomeriggio Alle 15 Avrà invece Inizio Il quinto Trofeo Alberto Massucco Meeting Regionale Categoria Passati Da questa gara Dove vi sarà La chiusura Alla circolazione Per il tempo Necessario Al passaggio Degli atleti Saranno Via Gramsci Incrocio Via Novano Via San Lazzaro Il percorso Di 800 metri Da ripetere Più volte A seconda Della categoria L'arrivo In questo caso È previsto Per le 17.30 E seguiranno Poi le premiazioni Ed è tutto Per questa edizione Di Tguglio Oggi L'informazione Ricordiamo Torna domani sera Con la diretta Che seguirà Lo spoglio Delle elezioni Per quanto riguarda Cavari e di Cicania A partire dalle 23 Poi Lo ricordiamo Lunedì mattina alle 7 Riprenderà la diretta Dedicata proprio Ai risultati Delle elezioni Insieme al Buongiorno Di Teleradio Pace Con Marco Revello Tutte le notizie E anche gli aggiornamenti Sull'andamento Dello spoglio elettorale Sul nostro sito Sarà aggiornato Sul nostro sito Teleradiopace.com Grazie Per essere stati con noi Buon proseguimento Di serata E buona domenica C'è solo